A sei anni dalla crisi nera del 2012 lo stabilimento industriale della Solvè di Rosignano vola e continua ad innovare con impianti di ultima generazione come quello di produzione di acqua ossigenata ultra purissima e inaugurato alla presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi. Merito del gioco di squadra tra istituzioni, dirigenza e maestranze ha detto Rossi che ha anche ricordato l'accordo di programma sottoscritto un anno fa con l'allora ministro Calenda. Grazie alle maestranze, ai lavoratori, al comune, alla regione noi ci siamo impegnati moltissimo e poi anche al governo nazionale siamo riusciti, sono riusciti le maestranze a farlo diventare uno stabilimento tra più competitivi. Pensate è chiuso quello in Belgio, è chiuso quello in Portogallo, temevano i turchi ma adesso i turchi sono stati fermati prima di Lepanto. Questo stabilimento cresce, lavora al massimo e dà lavoro, ha intorno delle aziende coinsediate che stanno lavorando al massimo, quindi si sperano cose positive. Il nuovo impianto della Solvay permetterà di produrre 50.000 m3 all'anno di acqua ossigenata da utilizzare nelle industrie elettroniche di tutto il mondo per pulire chip e microchip, tecnologie di altissimo livello che portano anche lavoro. Portano anche lavoro, ma più che altro portano un lavoro di altissima qualità, portano un lavoro diretto, ci sono una trentina di colleghi giovanissimi, ma portano lavoro anche per tutta la filiera di creazione e di costruzione di questi impianti che sono estremamente complessi e che quindi hanno bisogno di un grosso know-how dietro.